Noi ripartiamo dalle municipalità, secondo l'insegnamento stursiano, proponendo un programma anche per la Regione e ci proponiamo pure di essere un progetto pilota per il Paese. Dalla Calabria nasce questo laboratorio politico, aperto all'area moderata, popolare, riformista, oggi anche ambientalista, affinché si possano creare le condizioni per una sintesi propositiva e che sia l'insegna del buon governo e della coerenza che si rinnova e si rimodula con i tempi e con i programmi dell'attualità. Sì, è sempre stato così, ma l'endemicità è diventata purtroppo una costanza di questa Regione. Io ho fatto delle proposte di buonsenso, come quella di prevedere durante questa legislatura che considero costituente, anche qualche sana riforma, come quella della sfiducia costruttiva, che potrebbe essere prevista con la prossima legislatura, in cui noi, se ci trovassimo di fronte a problematiche, inadeguatezze, incompetenze, o anche una semplice venuta a mancare di un Presidente, non necessariamente per motivi traumatici, il Consiglio regionale si assuma una responsabilità politica di trovare all'interno della sua assemblee, di trovare soluzioni ad uopo per l'emergenza, anche per una questione di salute pubblica. Guardi, io non è che mi occupo della disinformazia, nel senso che non sono abituato a sparlare delle forze politiche competitrici, perché siamo, anche se vincolati da uno schieramento, in regime riproporzionale. Però le proposte programmatiche le abbiamo fatte noi, oppure la norma di buonsenso per l'incompatibilità diretta e indiretta dei consiglieri comunali dei grandi centri o delle città capoluogo, o quella che l'ho detto adesso per quanto riguarda la previsione della riforma della legge elettorale, della sfiducia costruttiva, ma anche prevedere una cabina di regia con la conferenza dei capigruppi per scegliere e condizionare lecitamente le spese che verranno dal PNRR. Praticamente sono necessità, perché noi vogliamo parlare di corpi intermedi, di terzo settore, di finanziamenti europei, di legalità, perché il garantismo può essere strumentale, il legalitarismo è una condizione dell'essere. Perfetto, ok. Beh, io sì, sono coerentemente di Bovalino da 36 ore dopo la mia nascita, come tutti gli speciali. E so di essere anche con orgoglio un calauti per parte di madre. E i calauti, e non solo loro, al Siderno e nella Ionica, almeno per quanto riguarda la mia parte politica, voteremo ritorto.